Secondo grande appuntamento della stagione per la scuola di pallavolo Anderlini che dopo la Winter Cup invernale torna con l'edizione numero 21 del trofeo Bussinello con l'Anderlini Spring Cup. Tre giorni di gara, sette categorie, sei nazioni rappresentate dalle 120 squadre iscritte con 1800 atleti al via. Bussinello si conferma come manifestazione di assoluta qualità con le migliori realtà italiane e alcune realtà internazionali. Spring Cup che invece avrà la grossa novità dell'Under 11 quest'anno come categoria nuova e sperimentale e di conseguenza è un punto di riferimento per le squadre più giovani. Alla componente agonistica e sportiva dei tornei che andrà a concludersi sabato 30 con le giornate qui al Pallavolo Anderlini si affianca anche una sfilata in Centro Storica Modena nel pomeriggio di venerdì 29 dove tutte le squadre partecipanti sfileranno da Piazza Roma a Piazza Grande e sarà una maniera per ribadire i temi della socialità e dell'inclusività ma anche per far conoscere ancora meglio e far entrare le squadre nella città di Modena. Cinque comuni coinvolti, 35 campi da gioco ma la festa di sport anche grazie al supporto di Comune di Modena e Modena Moremio si sposterà anche nel cuore della città. Siamo riusciti a mettere insieme una collaborazione che appunto consente a ragazzi e famiglie che vengono da fuori di scoprire il centro di Modena e il centro di Modena di arricchirsi della verve e dell'allegria di ragazzi che essendo sportivi hanno sicuramente l'argento vivo addosso e quindi ci piace anche l'idea di un centro sempre più vivace.